Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi come potete ben vedere mi trovo nella Bella Craft Il mondo del mio migliore amico Bella Faccia E dove sto andando? Verso il muro? No, non sto andando verso il muro ragazzi Sto andando verso la costruzione che ho fatto qualche giorno fa Infatti qualche giorno fa mi sono trasformato in Bella Faccia per 24 ore E sappiamo bene tutti quanti che Bella Faccia è un patito delle costruzioni Costruisce di tutto Quindi, visto che ero diventato Bella Faccia, ho fatto una bella costruzione di Kendall Che in realtà potrebbe anche essere una casetta, ora vi faccio vedere Se vi siete persi quel video vi consiglio di andarlo a guardare perché è molto divertente E quindi ho costruito il faccione di Kendall qua davanti che mancava nel suo mondo, non c'era E possiamo entrare qua dentro e fare tipo una mini casetta Ecco, una casetta per l'inverno volendo Anche se io già la mia casetta ce l'ho, però non ce l'ho a forma di Kendall Bella Faccia non ha ancora visto questa costruzione Perché siamo appena tornati entrambi dalle vacanze E sono proprio curioso di vedere la sua reazione Però non voglio semplicemente che entri qua dentro e gli dico Guarda Bella Faccia ho costruito No, 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 no Dobbiamo fare una specie di caccia al tesoro Esatto, voglio vedere quanto bene conosce la sua vanilla Quindi adesso lo invito E gli faccio cercare in ogni angolo del suo mondo La costruzione che ho fatto io E magari lo facciamo anche per occupare Magari gli dico che ho distrutto pure qualcosa Ok, adesso devo semplicemente chiamarlo e farlo venire qua dentro Oh, eccoti finalmente Ascolta, ti andrebbe di venire nella tua bella craft? Perché? Eh, potrei aver fatto qualcosa Che cosa hai fatto? No, no, non ho fatto niente Cioè, oddio Vabbè, tu vieni, ti faccio vedere Ci sono le telecamere, ho visto tutto quello che hai fatto Ma dove sono le telecamere? Ma che hai visto? Devo andare a ricontrollare la registrazione Adesso non lo voglio È qua? È nascosta qua dietro la telecamere? Eh, sono nascosto e non puoi vederla Vabbè, intanto entra Ah, devo entrare? Sì, 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 entra che ti faccio vedere Ma è una cosa bella o una cosa cattiva? No, è bellissima Non lo so per te Per te sarà, aveva Almeno quattro Per me è bellissima Per te non lo... Per me sì Per te non lo so Eccoti qua Ciao bella faccia Allora, giochiamo un gioco Ti piacciono i giochi? Certo, ti piacciono, no? Io ovvio che mi piacciono i giochi Perfetto Dovrai cercare quello che ho fatto Cos'è che hai fatto, scusa? Eh, ho fatto qualcosa nella tua vanilla E tu dovrai cercarla Cos'è secondo te? Dove potrei aver fatto questo? Se per semplificarmi Sai, io ho un sacco di amichetti in giro Per la mia venina Ah, sì, hai detto che ha anche le telecamere E per il pulcino non gli diamo niente No, non sa niente Lui non parla mai, è timido Bravo, bravo Non fare il canarino Potrebbe essere qua sotto nei sotterranei Potrebbe essere ovunque È una cosa grande oppure una cosa piccola? Medio statura Medio statura Medio statura Ma è una persona, eh? Eh, diciamo che è... Sì, una persona Bellissima Fortissima Qua Sembra tutto normale Mi sembra... Sì, devi controllare in ogni angolo però Ve lo faccio, sì, sicuro che... Sì, 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 adesso da qui guarda Acqua, acqua, acqua Eh sì, perché siamo vicino all'acqua, vedi? Non faceva ridere questa battuta Vediamo, qua mi sembra tutto tranquillo Ah, e ho distrutto anche una cosa Eh Non sei distrutto? No, 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 no Scherzavo, non ho distrutto Sarà meglio No, no, no So quanto ci tieni a questo mondo Non ti distruggerei mai nulla Altrimenti Altrimenti cosa Altrimenti niente Ecco, meno male Non litighiamo Vediamo Uh, ma che bella costruzione che c'è qua Eh, sì, bella Tra le vincolette Eh Quale è più bella? Quella che ho fatto io è più bella? Vediamo Uh, mamma mia Vediamo Qua fuori mi sembra tutto normale Sì, in effetti Uh, ma guarda che bella Hai fatto la casetta nuova Eh, hai visto il mio cagnolino C'ha l'osso Non andarlo a disturbare Sì, la casa di Wall-E Guarda Ciao Come stai Wall-E È scontroso Mamma mia Che l'avevo detto Eh, mettilo un cartello attente al cane Scusa, no? Vediamo attento Qui chi viene Eh, è vero Vediamo Sembra tutto normale Ma mi stai prendendo in giro Eh, potrei Forse è uno scherzo Dimmi almeno fuoco Fuochino Devo andare di qua Di là Fuoco, fuoco È tornato di nuovo Quel pazzo col camion, eh Dove, dove? Quello che mi ha rubato le mele? Sì Andiamo a cercarlo No, dici che è tornato Per fortuna adesso ci sei anche te Così possiamo farlo ragionare Beh, ha lasciato qua il suo camion però Scusa Sì, in effetti è tornato No, 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 comunque no No, acqua Acqua Acquissima Acquazzone Vediamo È negli inferi oppure nel paradiso? Cioè, è sottoterra oppure Eh Vediamo In alto forse Non te lo posso dire, mi dispiace È qua, è nel tuo mondo, ecco Potrebbe essere a 3000 blocchi O potrebbe essere al centro Davanti a casa tua Potrebbe essere che mi dai fuoco o acqua? Eh, ok, ok Eh, qua acqua Qua acqua Acqua Ok, magari andiamo più in là Dai, che qua non c'è niente Perché non vuoi controllare all'interno di casa tua Al terzo piano? Non abbiamo controllato lì Al terzo piano Al terzo piano di casa tua Cos'hai fatto al terzo piano? Eh, poi, poi, bisognerebbe controllare Terzo piano, terzo piano Terzo piano, terzo piano, veloce, veloce, veloce Corriamo Non vedo l'ora di vedere la sua reazione Ma cosa ti dico? Si vediamo al terzo piano direttamente No, ma Ecco Portami al terzo piano È un ordine Portami al terzo piano Oh Ma dove sei finito? No, aiuto, Kendall Sono qua sotto Aiutami Per la faccia No, 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 no Sono finito qua sotto Ma che cosa stai facendo? Scusa Sono finito qua Ti serve una mano? Proviamo a risalire lì sopra Oh, ok Aspetta che ti risistemo il mondo, eh Grazie Allora, vediamo Cosa hai fatto? Forse è arrivato Babbo Natale Eh, potrei No, non è periodo No, no, no Cosa sei? C'è? Come là? Al terzo piano dobbiamo andare Al terzo piano Ragazzi, è là Come fanno a vederlo? Andiamo al terzo piano Andiamo al terzo piano Terzo piano Sì, sicura che non vuoi utilizzare di nuovo il teletra Cosa hai fatto? Io lo sapevo che l'hai riportato Cosa ho fatto? L'avevi riportato, eh Questo pazzo Ma chi? Al mercante Ma io non vedo nessuno Bella faccia Come vedi nessuno? Ma dove lo vedi al mercante? Vabbè, andiamo Quindi non hai fatto tu questo No, no, no Non c'entro io No, no, no Vediamo Terzo piano Terzo piano Qual è il terzo piano? Io non ho un terzo piano qui Ma come non hai il terzo piano? Scusa, questo qua su Che cos'è? Qua? Cosa c'è? Vediamo No, non c'è niente qua Ah, non c'è niente neanche qua? No E allora Dove diavolo l'ho fatta questa cosa? Non saprei Ma che cosa? Eh Sì Ma che cos'è quella roba là? Quale roba? Bella faccia No, ma La vedi anche te? Eh, non lo so Fammi vedere Kendall? Eh, aspetta Devo aumentare la distanza Aspetta Ma che cos'è? Oh Ma è un fungo È una testa fungo Mi sa Ma non capisco No, è un fungo Ma non si vede da qua Aspetta, aspetta È un fungo, è un fungo Sono abbastanza sicuro Fammi vedere No, bella faccia Sono abbastanza sicuro che è un fungo Fammi vedere No, c'è bisogno di andare a vedere Cos'è quella roba? No No, no, no Sì, sì, sì No, non può essere È possibile Non può essere quello che penso È proprio quello che pensi Sì, sì, sì No, no, no Non può essere assolutamente Senti Mancava il tocco di Kendall Nel tuo mondo Oh no Hai costruito la tua testa Nel tuo mondo Sì, proprio quando mi sono spacciato per te Ah, ma una testa di rapa Adesso capisco Ehi Aio Ma guarda Lo vuoi andare a guardare? È bellissima È proprio di sì Sto proprio andando in questo momento Guarda che bello Oh, ha costruito la sua testa Sì, è tipo una casetta Conoscendoti non l'hai arredata dentro Conoscendoti Tanto ti conosco come le mie tasche E infatti E infatti non l'ho arredata Vabbè, però, scusa E non ho i materiali per arredarla È molto bella Devo dire la verità Sai cosa? Veramente? Visto che non l'hai arredata L'arrediamo adesso insieme Cosa ne dici? Oh Eh, scusi, non siamo aperti Non siamo ancora aperti Andiamo a prendere i materiali nel magazzino Ok Ma che è successo? Bella faccia Oh Sono i vicini puttolenti Eh, hanno saputo che abbiamo aperto una nuova attività No, perché ultimamente mi attaccano un sacco di zombie Non capisco perché Allora, vediamo Vediamo un pochettino Cosa abbiamo qua? Uh, queste cose Come servirebbe un letto? C'è un letto qua Un letto, vediamo Letto 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 Questo l'ho già letto Questo l'ho già letto Ma dove sono i letti? Questo l'ho già letto Letti Ah, qua, sì Letto, letto Eh, sto tornando alla casa Ti muovo Arrivo, arrivo, arrivo Farisco un'altra volta Ciao Ma smetti con i tuoi scherzi Oppure di qua Oppure di qua Dai, che abbiamo una casa da arredare Non si arreda mica da sola la casa Mi diverto a manzeri il suoro sfruite Eh, ho capito Ciao, stellina Sono i frutti del mare Gangam No, ma cosa fai? Passi attraverso le porte Ma cosa hai fatto? Ding Dong Cos'è? La campana? È vero Dobbiamo mettere anche il campanello Ah, comunque questo te lo sistemi Oh, cavolo Che cos'era? Non lo so Esploso il blocco L'ho toccato e esploso Eh, io la No, no, no Non lascerei questo posto Ok Perché ultimamente è entrato Aerobrain qui Ah, ok No, no, no Allora niente Lascia stare tutto Certo, io la casa me la devo fare proprio sopra Aerobrain Sopra Sopra la casa di Aerobrain Vieni, vieni, vieni Vediamo Allora, ho portato un pochettino di cose Innanzitutto Candle Quest Le mettiamo qui Così facciamo luce Guarda che bella la tua casina Ah, certo Tu le lampade le metti per terra Non le metti su No, no Le metto sotto i tappeti Molto intelligente Ma quindi tu vieni a vivere qua adesso, no? Eh, beh Questa è la casa per l'inverno No, no, no È la casa da per sempre Quell'altra non la usi più Non mi vuoi? Eh, no Ti voglio Però ultimamente fai un po' di baccano la notte Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Scusa, guarda Ho portato un leggio Ma cosa mi hai fatto? Il gabinetto Bella faccia No, questo è un tavolo Adesso ti faccio vedere Ah, ok Mamma mia Ma fammi finire Allora, questo lo mettiamo qui Ok Ora sembra proprio un gabinetto Ma non è un gabinetto Mamma mia Ti devo segnare proprio tutto Così guarda C'hai anche la natura Madre natura qui dentro Wow, sei bravissimo Qua mettiamo un altro tavolo Grazie, grazie Basta i complimenti Non mi piace qui Basti i complimenti Sei un pazzo Uno scienziato impazzito, ragazzi Qui ci possiamo mettere i cartelli Sono perso Sono perso Sono perso E adesso il letto dove lo mettiamo? Davvero il letto Mi ero scordato che tu Hai bisogno del letto Penso tutti hanno bisogno del letto Possiamo mettere qua Buonanotte e sogni d'oro Ok, perfetto Mi piace, bravo L'hai arredata per bene Grazie, grazie Quindi sei contento Che ho fatto questa casa? Sì, tantissimo Ti piace, ti piace? Eeeh, cosa fai? Sta fermo Niente È la mia nuova dimora Uova dimora? Le uova dimora Ragazzi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Della reazione di bella faccia Alla mia casetta Dal vostro Kendall E da bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani In un prossimo video Aspetta Dov'è? Ciao, ciao a tutti Ciao